Buongiorno 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 Ci sembra veramente Un momento in difficoltà della madre Però posso dire che Lui ci ha guardato sempre Non ci ha lasciato mai solo Il padre ci ha sempre avuto E anche quando ho lavorato Lavoravo in pandemia E ero vantata dal Signore Però il Signore anche una volta Dice sì che proprio La signora dovevo lavorare io E io lavoravo e lei mi parlava del Signore E quando Quando non ho andato più lì Dice ormai come ho lavorato dal Signore Ma poi la vita Allora vedo come una lettore del tempo Senti delle fucce Da unicronomo che provengono già all'interno Io stavo fuori con dei miei amici E parlavamo, scherzavamo Scherzavamo, proprio di Dile fratelli che davano i volantini E uno venne vicino a me e mi dedo volantini Stai assoluto perché C'è assoluto perché le incrociano E io mi disse Ma adesso che voglio A questo Signore perché è molto giusto Perché ciò mai non è di problema a lui Chi lo conosce Io ho sentito l'istante Come se ci stava qualcosa di bucchia Mi lasciai fuori e entrai dentro Mi sei detto su quella panchina Ero diversa Ero un'altra persona E se mi dico Solamente il fratello mi diceva Tu hai bisogno di Gesù Io non dico come lo scoperto Dio che tu hai bisogno di Gesù Uscì il cuore tanto di riuscire a quella vita Ritornai a casa e quella E quel di fondo mi martellava la testa Dopo tempo che ti fidanzai E il mio ragazzo ha deconvertito Ve l'ho subito di parla del Signore che si Si lo sa io un giorno vorrei ritornare in quella chiesa Dove erano dicono io non sono cresciuta E io ringrazio il Signore perché dal primo momento Lui mi ha spinto a ritornare in questa chiesa Siamo venuti noi La prima volta in questa chiesa insieme Eravamo troppe convertiti E dal primo giorno il Signore ricordo che Ogni affetto ho sentito qualcuno che mi alzava E la sette mi portava davanti E lo ringrazio perché Poco dopo dopo i mesi 6-7 mesi mi incinocchiata Sono a casa mia E mi disse Signore adesso Mi devi dimostrare quanto mi ami Perché vuoi dire se mi ami È la pari delle altre sorelle Che sono di te con il velo Che sono riuscite nella tua casa E mi viene subito nella mente Il fatto di quella donna che avevo visto il santo Per 12 anni E mi disse Signore non ti riesci di toccare Il tempo dell'antenne Perché lo so che non posso toccare Perché non si impegna Però ammi lo compro a tua Perché c'è mamma è passare davanti E ringrazio il Signore perché io non era ancora salvato Ma in un momento mi disarmoni Quanto è stato di Spirito Santo Però non si è purificato Il Signore è in un modo nuovo E ricordo che venne in chiesa Che sui fratelli Mi è successo questo Il fratello Prendò insieme E venne uscire E un'altra persona Quando è uscita qua Poco dopo un anno Ho avuto ragione di scendere Nell'acqua battesimale Questo lì è stata una cosa Che è completata ancora di lui Non dico che la prova di sono un caso Sono tuttora in l'ultimo periodo Però sarei sicuramente Vedrete Una volta che è ritratto Viene vicino a me E mi dice E' come il Signore dietro Mio mi sono Non da me E il Signore Ho l'ho detto Ma portiamo Mio la mente E mi amore Dicono E' come il Signore E' come si dice E' come si dice E' come ti a dire Per sempre E' come Io ti amo questo come sei E' come ti ha dato l'entretto E' come ti abba E' come ti abba Perché posso dire veramente Che Quando ti accederai Per le api Io sarò contento Quando voler attraversare Le piano non ti travolgeranno nel primo bel piede ho passato per gli altri per il fuoco, però una cosa mi ha aiutato e mi ricordo che mi erano a trovare il mio piede in ospedale mi venivano a me già confassuti da Dio perché diceva, per quanto è vero certo io non mi ero a nascere, se non mi metto 4, non mi metto più 3 e posso dire che quando salito con le scale non erano una sola persona, ma erano tu, perché il Signore mi stava vicino voglio dire, c'è il Signore e lo voglio dare benedizione, c'è un gelamento e il Signore si ha dato un po' Amen